Non è vero affatto che la Puglia e la Campania stanno perdendo tempo per firmare il patto per l'utilizzo del fondo di sviluppo e coesione, semplicemente non c'è ancora mai stata sottoposta la bozza da firmare perché il ministro Fitto ci chiede continuamente nuove precisazioni e naturalmente noi ci auguriamo che queste precisazioni a un certo punto abbiano termine e che si possa procedere alla firma il più presto possibile perché abbiamo in Puglia per esempio 6.000 aziende in attesa di finanziamento che hanno bisogno che il patto sia firmato velocemente.